La Regione Puglia investe sul sostegno delle famiglie e soprattutto sulla tutela dei minori che si trovano ad affrontare complicate vicende tra le mura domestiche. Per questo nel padiglione della Regione Puglia della Fiera del Levante è stata tracciata una linea per evidenziare i risultati raggiunti dopo due anni di lavoro dal progetto UMUS, sostenuto dal Dipartimento Welfare della Regione Puglia. Sono state tracciate le future linee di indirizzo dell'attività, le future linee prevederanno uno specifico affondo sugli spazi neutri al fine di uniformare la gestione degli spazi neutri sull'intero territorio regionale, la valutazione di impatto sociale delle politiche per le famiglie e per i minori, una specifica formazione congiunta degli operatori con la scelta di temi condivisi con gli operatori stessi in base alle necessità e un rafforzamento dei rapporti esistenti tra i servizi sociali del territorio, gli ambiti territoriali, i centri servizi per la famiglia e i centri educativi. Per poter tutelare al meglio i minori è fondamentale migliorare i collegamenti tra le famiglie e i servizi sociali. In quest'ottica dunque, quella dell'assistente sociale è diventata una figura chiave che mette le sue competenze al servizio delle famiglie più in difficoltà. L'assistente sociale di oggi ha un percorso formativo molto completo, molto competente, più specializzato. Noi come ordine stiamo pensando anche di creare delle specializzazioni, delle figure specialistiche, soprattutto per garantire la tutela dei diritti inalienabili dei minori e delle famiglie, perché la figura dell'assistente sociale è una figura che non ha soltanto le competenze tecniche, ma è una figura che abbraccia anche delle competenze, le soft skills, delle competenze relazionali con le famiglie.